PEGI 18 Alla chiesa sta succedendo qualcosa di strano. C'è sangue nel fonte battesimale e il pastore è svanito nel nulla. E io ho avuto la brillante idea di andarci... da sola. Ah, ti pareva... Tranquilla Laila. Ah, merda! Che cos'era? Egli è la verità nelle tenebre. Egli è la parola nell'ombra. Ho visto il movimento nel buio. Ho visto l'ombra. Oh, signore! Ho distratto il cuore a morse! Oddio, oddio, oddio! Oh, cazzo! Ne arrivano altri! Mi ha il pugno! Non ti saluti anche a te. Giaco! Oh, grazie a Dio! Forza, troviamo gli altri e tagliamo la corda. Sapete, Redfall sembrava uscita da una cartolina. Una pittoresca isola a largo della costa del Massachusetts. Un centro storico vivace, un bel lungomare e un vecchio faro. Poi... è successo qualcosa. La gente cominciò a sparire. Chi è rimasto si è svenduto. Di brutto. Al giorno d'oggi, praticamente sono tutti o vampiri, o fanatici che vogliono diventare vampiri, o morti. E non parliamo degli squalli di succhiasangue dei film. Questi dannati mostri hanno oscurato il sole e prosciugato il mare, isolandoci completamente dal mondo. In ogni caso, se devo restare bloccata su un'isola piena di vampiri, almeno ci siete voi. Il sentimento è reciproco. Oh, grazie, Jack. Poi c'è Randy, l'ingegnera geniale, con il suo amichetto robot. Parla di te, Bribo. Bravo il mio robot. Sei proprio bravo. È il nostro esperto di tutte le creature dell'orrore. Preferisco il termine criptozoologo, ma non fa niente. E dulcis in fondo la sottoscritta. Ho questi strani... poteri. Cerchiamo risposte, ma finora non abbiamo trovato altro che sangue e morte. Per fortuna, i vampiri e i loro tirapiedi non si preoccupano troppo di nascondersi. Scommetto che le risposte che cerchiamo sono in quelle trappole per turisti trasformate in fortezze. Ho avvistato dei succhi a sangue e il loro fan club vicino al festival. Iniziamo da lì. Divento invisibile. Fanatici, possiamo attaccarli direttamente o aggirarli. Facciamola finita e basta. Al mio segnale. Merda, sacco di sangue! Occhio, sanno che siamo qui. A che ci pensi? Si sale! Il mio intuito da cacciatore di cryptidi mi dice che c'è un nido qui vicino. Il tuo cosa? Eh, Dev, non è una professione. Ho trovato della roba. Oh, non posso non entrarci. E questo cos'è? Dove porta? Una specie di coscienza collettiva? È impossibile. Ecco il cinema. Ci venivo sempre. Dovevano proprio rovinarmi anche questo. Oh, merda. Attenzione. Sta per colassare. Sì! 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 Sì!